Un panorama mozzafiato, Novara e la pianura padana da una prospettiva insolita, ai 100 metri di altezza della cupola di San Gaudenzio, dove i visitatori possono salire imbragati in sicurezza. Maria Adelia. Una salita emozionante che leva lo spirito e suscita meraviglia. Si staglia la cupola di San Gaudenzio su Novara, troneggia dall'alto con la sua guglia che sfiora i 100 metri d'altezza e il blu del cielo. Punti di vista esclusivi che ora diventano accessibili al pubblico in un affascinante percorso a tappe. Noi abbiamo un tratto di percorso che va effettuato proteggendosi con una linea vita anticaduta, quindi tutto il pubblico indossa questo imbrago. L'imbragatura e l'elmetto per entrare in sicurezza nel cuore dell'opera architettonica di Alessandro Antonelli, 460 scalini che schiudono suggestivi affacci. E' straordinario per la sua storia, per la sua architettura, ma anche straordinario per il panorama. Laggiù quello è lo skyline dei Grattacieli di Milano, alla vostra sinistra avete le montagne del gruppo del Monte Rosa. Si avanza fra scale e camminamenti fino allo splendore della cupola. Lo sguardo corre per decine di chilometri attraverso i colonnati che abbracciano l'edificio. E' un capolavoro dell'architettura ottocentesca. L'architetto Alessandro Antonelli ha realizzato qui forse la sua seconda opera eccezionale, dopo la Mole.